Grazie a tutti. Ieri a Sassari confronto con i sindaci, spiralli per il nuovo ospedale, ma Alghero vuole intanto mantenere le attuali discipline. Oggi Alghero celebra la festa del suo patrono, previsti alcuni appuntamenti in città ma non ci saranno i tradizionali fuochi. Camerada di Forza Italia parla di festa nichilita e resa triste. Ieri presentato il corso Quelda, nato per incettivare e stimolare l'introduzione e la sperimentazione dell'insegnamento e dell'utilizzo della lingua catalana di Alghero in orario scolastico. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati con il telegiornale di Alghero su Catalan TV. Come avete sentito anche dai nostri titoli, ancora una volta la sanità in primo piano con Alghero in stand-by. C'è attesa per l'assemblea pubblica del 9 ottobre alla quale parteciperà l'assessore regionale Luigi Arru per parlare sia del piano di rete ospedaliera, che sta tanto facendo discutere sia della sanità algherese. Ieri però il rappresentante della giunta Pigliarù era Sassari in occasione della conferenza dei sindaci. Per la prima volta Sassari è il riconoscimento di centro di secondo livello, esattamente come Cagliari. Non si può pensare che le due realtà facciano le stesse prestazioni, considerato che i bacini demografici che coprono sono differenti, ma chiedo anche a voi di avere una visione complessiva regionale del sistema sanità. Questo quanto affermato ieri dall'assessore regionale Luigi Arru, intervenuto alla conferenza dei sindaci. L'esponente dell'esecutivo ha richiamato i principi che stanno alla base della riforma della rete ospedaliera, sulla quale ci si sta confrontando nei vari territori. Abbiamo un modello organizzativo incentrato sull'ospedale, ma questo non serve per tutte le soluzioni, ha detto. Non stiamo ragionando in termini ragionilistici, né sposando a pie pari quanto indicato dalla normativa nazionale. Se così fosse, dovremmo chiudere molti dei cosiddetti piccoli ospedali, tra gli attuali 29. Non stiamo facendo classifiche, ma classificazioni basate sui volumi di prestazioni e sugli esiti, oltre che sulla popolazione. Stiamo lavorando per mettere reti e servizi, ha proseguito Arru, aggiungendo che al termine di questi confronti verranno tratte le conclusioni, perché niente è definitivo. Sarà quindi la Giunta a fare le sue scelte. C'è un territorio, tuttavia, quello del Sassarese, in fibrillazione. L'assessore ieri ha affrontato rapidamente il rassegno e punti contenuti in un documento presentato dai sindaci del distretto alcuni giorni fa e ha aperto un piccolo spiraglio per la costruzione di un nuovo ospedale per Alghero. È necessario recuperare 250 milioni e raffermi a Roma per la mancata approvazione da parte della Sardegna della riorganizzazione della rete ospedaliera, ha detto Arru. La preoccupazione più grande, tuttavia, per il territorio è quella del mantenimento delle attuali discipline. In molti hanno sottolineato come ci sia il rischio che Alghero perda, ad esempio, o Torino, urologia. All'assessore regionale il compito di fugare ogni dubbio, magari in occasione dell'assemblea in programma venerdì prossimo che si preannuncia in fuocata. Quindi una sorta di agitazione qui nel territorio algherese, ma anche a Olmedo. I minatori di Olmedo, infatti, hanno occupato la miniera di Bauxite. Alcuni sono scesi nel sotterraneo a 180 metri di profondità, altri invece presidiano i cancelli. Dopo la lunga battaglia per ottenere la cassa integrazione, a giorni in tal senso dovrebbe arrivare la firma del Ministero del Lavoro, i segretari generali di Filctem, Femca e UGL Chimici denunciano il fatto che l'azienda SMB nega le retribuzioni, fa eseguire lavori di ripristino ad aziende terze, nega le ferie, i permessi e trattiene i riborsi IRPEF che sarebbero dovuti essere erogati nel mese di luglio. I lavoratori sono allo stremo. I crediti che hanno nei confronti dell'azienda permetterebbero loro di affrontare i prossimi mesi con dignità. L'azienda trattiene le cifre dovute e al contempo spende per far eseguire lavori di ripristino in miniera da altro personale. Scrivono in una nota i sindacati che fanno sapere di aver avviato le procedure legali a tutela dei lavoratori, oltre alle ingiunzioni e le denunce per appropriazione in debita. La Regione intervenga con urgenza, c'è il rilaffinamento della miniera a un'altra società. Si legge in una nota, metta in mora la SMB e pretenda che vengano eseguiti subito i ripristini. La miniera deve riprendere a produrre l'appello dei sindacati. Proprio in questi giorni la Regione dovrebbe pronunciarsi sulla manifestazione di interesse per il riavvio dell'attività estrattiva. E oggi, come ben sapete, è la festa del patrono di Alghero San Michele, una ricorrenza molto sentita dalla cittadinanza. Alle 18.30 la Santa Messa, celebrata dal Vescovo nella chiesa di San Michele. Ma sentiamo quali sono gli eventi in programma in questa giornata. Oggi, 29 settembre, Alghero festeggia il suo patrono, San Michele. Proseguono gli eventi che hanno preso il via da alcune settimane, che hanno visto appuntamenti di carattere culturale, musicale e anche sportivo. Il momento più significativo della giornata di oggi è quello della Santa Messa, che sarà celebrata alle 18.30, proprio nella chiesa di San Michele, che sarà presieduta dal Vescovo. La celebrazione religiosa sarà seguita dal concerto della banda musicale D'Alerci, in piazza Ginnasio. Durante la giornata è prevista alle 17, nella sala espositiva del Lucco Alte, l'inaugurazione della mostra dedicata al grande campione algherese Torre Burruni, a 50 anni dalla vittoria del suo titolo mondiale di box dei Pesi Mosca. Celebrazioni che prevedono anche altri appuntamenti spalmati in varie giornate. Alle 18, presso la Biblioteca di Architettura, nel complesso di Santa Chiara, la presentazione del libro di Vittoria Carta, Tutto è bene con me, mio fratello Gioan Carta. Alle 20, al Teatro Civico, si terrà la 32esima edizione del premio Raffel Sari, concorso di poesie e prosa a cura dell'obra culturale dell'Alghè, che in particolare sarà dedicato a Carlo De Martis, scomparso poco tempo fa, e che vedrà la presenza della cantante sarda Elena Ledda, accompagnata da Marcello Peghin. Inoltre, alle 21, la Cattedrale di Santa Maria, ospiterà la quinta edizione del Sardinian Organ Fest, il concerto a cura dell'Accademia Organistica Sarda. E sulla festa del patrono di Alghero, San Michele, agli eventi previsti in città, c'è da registrare l'intervento del consigliere comunale di Forza Italia, Annunzio Camerada, che in un comunicato parla di festa annichilita e resa triste. Sentiamo. Una festa che dal 2002 al 2011, all'epoca della giunta Tedda, era al centro della vita della comunità algherese, ed era diventata il prolungamento della stagione estiva, è stata completamente annichilita e resa triste. Così il consigliere comunale di Forza Italia, Annunzio Camerada, secondo il quale sono ormai lontani i ricordi, i fuochi pirotecnici che alietavano la notte del 29 settembre, le decine di migliaia di ospiti che affollavano le vie cittadine, e le attività di somministrazione, la kermesse di eventi culturali e ricreativi che l'amministrazione di allora organizzava assieme a Meta e condivideva con le associazioni algheresi. Oggi assistiamo, attacca Camerada, a un'azione di desertificazione culturale e turistica che contiene anche accenni di blasfemia, posto che il santo patrono della comunità algherese viene relegato in un cantuccio. Di chi sono le responsabilità, si chiede? È evidente che la giunta Bruno, così come la giunta Lubrano di diretta emanazione dell'attuale sindaco, non hanno nel loro DNA il rispetto e la devozione dovuta a San Michele, che l'assessore al turismo definisce alla messicana San Miguel. Ma è che è altrettanto evidente, prosegue l'esponente azzurro, che non riescono a capire che occorre promuovere il territorio anche utilizzando queste code di stagione, attirando visitatori e creando flussi economici. Nel frattempo, chiude Camerada, prosegue la tetra guerra fratricida all'interno della maggioranza per il controllo della fondazione Meta, maggioranza ignara del fatto che oramai Meta è vuota ed inabile a svolgere i compiti di promozione del territorio, chiude la nota. E a proposito di fondazione Meta, ne parla anche il Movimento 5 Stelle, parlando ovviamente anche di sistema museale cittadino. Alghero ha bisogno di manager di alto profilo, non dei soliti noti, dicono i pentastellati. Il Movimento 5 Stelle parte da una premessa. Andando oltre i problemi ambientali denunciati negli ultimi mesi, si legge in una nota, un tema che merita grande attenzione sia come attrattore turistico, oltre che come memoria, coscienza e conoscenza della nostra cultura, è il sistema museale cittadino. Proprio questo termine, scrivono i pentastellati, nasce da un'esigenza comune a tante realtà di mettere in rete e di coordinare i luoghi della cultura, ovvero i musei e i principali siti storici e archeologici. Il progetto del sistema museale algherese, ricordano, nasceva con la volontà dell'amministrazione comunale e di applicare un modello di fruizione e gestione del patrimonio culturale in sintonia con le più avanzate esperienze in ambito nazionale e internazionale. Tutto ciò sfruttando finanziamenti comunitari e regionali. Si coglieva l'opportunità di mettere in rete e rendere efficienti e autosufficienti alcune importanti risorse del nostro territorio, ovvero il Museo della Città, il Centro di Interpretazione, il Museo Multimediale del Territorio, il Museo del Corallo, il Museo Dio Cesano d'Arte Sacra, il Complesso delle Torri. L'ente ha proposto il coordinamento di questo sistema e la Fondazione Meta, la cui M sta proprio a significare musei. Purtroppo, ad oggi, la complessità del progetto non vede la sua chiusura, nonostante siano operanti diversi siti coinvolti. Eppure, scrivono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, è evidente che le attività della Fondazione Meta sono legate più agli eventi che alla gestione del sistema museale o piuttosto che al turismo. Di quest'ultimo ancora non emerge il suo pieno di marketing, mentre per ciò che concerne il Museo della Città è noto sia aperto agli occhi dei soggetti finanziatori, ma nei fatti, chiuso ai suoi fruitori, mentre il Centro di Interpretazione, Museo Multimediale del Territorio, assomiglia attualmente a un punto vendita di gadget e libri. Dopo oltre dieci anni di attesa, crediamo che i tempi siano maturi per arrivare alla fruizione dei beni culturali in un'ottica di integrazione e complementarietà che risponda all'esigenza dell'amministrazione comunale di Alghero di rafforzare il prodotto turistico locale. Quando il Museo della Città sarà ultimato, il sistema museale integrato potrà finalmente vedere la sua vera nascita e questo comporterà un innesto di risorse, la presenza di un direttore, che certamente potranno generare un importante ritorno in termini culturali e turistici. Il Movimento 5 Stelle, si legge ancora, pretenderà che tutte le figure professionali coinvolte nel sistema museale, e in primis quella del direttore, siano scelte per competenza, formazione scientifica, manageriale e dirigenziale al contempo, ovviamente tramite concorso pubblico. Non potremo mai accettare che anche queste risorse strategiche nel nostro territorio possano essere utilizzate come merce di scambio per mantenere gli equilibri politici e spartire per convenienza piuttosto che per competenza. E oggi torniamo a parlare del nuovo regolamento della mensa scolastica approvato la scorsa settimana in Consiglio Comunale che ha provocato anche una serie di polemiche. Sull'argomento c'è da registrare l'opinione di Andrea Montis dei riformatori sardi di Alghero. Dispiace aver constatato che un argomento di tale importanza come la mensa sia stato affrontato, seppur con tutti i buoni propositi, in maniera, come dire, piuttosto sbrigativa dal punto di vista pratico e tecnico-amministrativo. Questa l'opinione di Andrea Montis del coordinamento algherese dei riformatori sardi, che in una nota scrive siamo convinti che prevedere un miglioramento del prodotto servito ai fruitori di per sé non sia sufficiente a risolvere le difficoltà cui le famiglie algheresi vanno incontro per garantire un pasto ai propri figli. Il nuovo sistema impone infatti il pagamento anticipato di una retta bimestrale per poter godere del servizio senza pensare, prosegue Montis, che per molte famiglie è già difficile reperire denari anche solo per una settimana di pasti e prevede il rimborso dei pasti non fruiti unicamente nel caso di dieci assenze consecutive. Dispiace aver avuto ancora una volta conferma, prosegue Montis, che l'attuale amministrazione pur di portare a casa il risultato che in certi casi assume addirittura connotazioni personalistiche non tiene in nessun conto le proposte della minoranza arrivando a bocciare tutti gli emendamenti presentati. Paradossali poi i tentativi di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno provato a evidenziare come le modifiche agli atti istituendi potessero essere richieste dalla minoranza stessa durante le sedute di commissione e non in aula quando poi la stessa commissione ha dimenticato di inserire nel documento presentato gli emendamenti già concordati in commissione. Come definire tutto ciò si chiede Montis volute dimenticanze e frettolosità colpevole superficialità questo modo di fare ma in questo caso anche di dire svilisce ancora di più la fruizione che l'aula è deputata a svolgere comprensibile per coloro che rappresentano vere e proprie meteore in consiglio comunale ma aberrante per chi avendo qualche anno di esperienza in più dovrebbe avere uno scatto d'orgoglio e non prestarsi il semplice ruolo di alza paletta aspettando magari di presentare prima o poi il conto quantomeno su questioni che di politico hanno ben poco e riguardano da vicino il benessere comune dei cittadini e chiude la nota di Montis. È arrivato il momento di fare una piccola pausa per la pubblicità tra poco Ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale ieri presso la sala della Mediateca Centro Servizi Unitaria di Via Marconi c'è stata la presentazione del corso Quelda Curs per Insegnanze di Lengua e Didattica del Català dell'Alghe che è coinciso con la giornata europea delle lingue che si celebra ogni anno il 26 settembre in 47 paesi membri del Consiglio d'Europa con l'obiettivo di promuovere la diversità linguistica. Il corso è organizzato dall'assessorato della pubblica istruzione della regione Sardegna in collaborazione con il comune di Alghero e la Generalitat de Catalunya. Un buon segnale arriva dalla collaborazione tra queste tre istituzioni che stanno investendo e contribuendo per la prima volta insieme affinché si possa incentivare e stimolare l'inserimento e la sperimentazione dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua catalana di Alghero in orario curricolare. Hanno partecipato alla presentazione l'assessore comunale alle politiche del catalano di Alghero Gabriele Esposito il rappresentante della Generalitat de Catalunya all'Alghe Gioane Elia Zadell e naturalmente il sindaco Mario Bruno. La responsabile del settore lingua e cultura sarda della regione Sardegna Cristina Baiocchi presenti anch'essa ha portato i saluti dell'assessore regionale Firino e ha rimarcato l'importanza di questo corso di formazione così come l'ospitalità che il comune di Alghero ha riservato allo sportello linguistico regionale trasferitosi da pochi mesi proprio nella sede comunale di Sant'Anna. Il sindaco Mario Bruno ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto insieme alla regione tramite lo sportello linguistico regionale per l'avvio di questo progetto. Ha coordinato la serata la dottoressa Giuliana Portas operatrice dello sportello linguistico regionale per il catalano di Alghero e responsabile del corso Cuelda che ha illustrato le finalità del corso e presentato il programma di formazione ai docenti. Insieme alla dottoressa Portas che si occuperà del perfezionamento della conoscenza orale scritta del catalano di Alghero e delle lezioni dedicate alla politica linguistica e legislazione delle lingue minoritarie il professor Iban Leogliop si indirizzerà all'insegnamento delle competenze e strategie didattiche e il dottor Francesco Ballone curerà la parte pratica del corso nello specifico il laboratorio di scrittura e la creazione del materiale didattico. Durante il corso stesso sono previsti due seminari tenuti rispettivamente dal dottor Pera Mayanz Balcels in merito all'escola catalana e al trattamento integral della Slinguas e dalla dottoressa Rosalba Perini sul progetto di ricerca CLIL delle plurilingue friulano. Spazio anche ai motori nell'edizione di oggi del nostro telegiornale abbiamo intervistato Torebello presidente del team Alghero Cors che ci ha parlato degli ultimi risultati positivi ottenuti dai piloti del team algherese all'ultima prova del campionato Sardo Slalom e dell'ultima riuscita della gara di regolarità Baia delle Ninfe. Torebello presidente del team Alghero Cors se i motori algheresi non vanno in vacanza l'attività continua c'è stato lo Slalom di Chiaramonti c'è stato anche il Baia delle Ninfe organizzato da voi ideato dai fratelli PES e da Marco Pala che sono ovviamente dei componenti del vostro direttivo è una soddisfazione per voi anche perché a Chiaramonti avete avuto ancora dei risultati positivi. Grazie a Dio perché abbiamo dei fantastici piloti da me personalmente cercati e voluti nella mia scuderia e grazie a Fabio Angioi a Francesco Marrone a tutti i nostri piloti che stanno veramente contendendosi il campionato sardo quest'anno e hanno dato una grandissima forza alla nostra scuderia. Alla fine è una vittoria quella della scuderia a livello regionale una vittoria di gruppo perché in base al posizionamento dei piloti la scuderia del team Alghero Corsa è salita sul primo gradino del podio. Assolutamente abbiamo vinto il campionato sardo anche quest'anno con grande orgoglio e cosa posso dire sono felicissimo giustamente gli sforzi vengono ripagati in tre anni abbiamo fatto grandissime cose vabbè tre anni tra virgolette perché l'anno scorso come sappiamo tutti abbiamo fermato l'attività per cercare di aiutare questi ragazzi con la nostra associazione che è l'ACI per cercare di abbassare un po' i costi di gestione visto il periodo di crisi che stiamo attraversando ci sono venuti abbastanza incontro abbiamo rimpreso di nuovo l'attività sportiva quest'anno con grande successo da parte del team Alghero Corsa sono contentissimo per come è andata la gara di domenica sabato e domenica per quanto riguarda il Baglia del Ninfe che è una creatura dei miei carissimi amici Giulio e Rodolfo Pesse e Marco Pala da loro organizzata da loro gestita è sotto la legge del nostro team Alghero Corsa che stiamo cercando per i prossimi anni di portarlo come campionato italiano è appunto della Baglia delle Inf si è conclusa con un grande successo di partecipanti e di pubblico l'undicesima edizione organizzata dal team Alghero Corsa sotto l'egida dell'ACI Sport La manifestazione ha visto al nastro di partenza numerose vetture di grande interesse storico ai piloti ai massimi livelli come Giordano Mozzi vincitore della 1000 Emilia 2014 il quale è rimasto affascinato dagli incantevoli paesaggi e dal calore del pubblico accorso ad ammirare l'equipaggio al loro passaggio il top driver mantovano ha inoltre apprezzato il livello tecnico della gara la quale potrebbe essere candidata per una titolazione di campionato italiano di regolarità il via la competizione sabato pomeriggio dai bastioni Cristoforo Colombo con gli equipaggi che si sono poi cimentati nei diversi controlli di precisione organizzati nei paesi di Villanova Monteleone e Ittiri dove il pubblico e le amministrazioni comunali coinvolti si sono distinte per la particolare e gradevole accoglienza riservata ai partecipanti incantevole il rientro in serata dal ghero degli equipaggi accolti dal numeroso pubblico che li attesi sulla Rambla per altre spettacolari prove cronometrate permettendo di ammirare le splendide auto rimaste esposte al termine della prova fino a tarda sera gli equipaggi sono stati accolti da un aperitivo e dal successivo concerto offerto dagli organizzatori che ha allietato il folto pubblico presente sulla passeggiata Buschè la seconda tappa ha preso il via domenica mattina dei bastioni sempre Cristoforo Colombo con gli equipaggi che si sono diretti verso la pista del corallo per le impegnative selettive prove di precisione nel circuito per proseguire poi per la prova Baia Stage nella splenida cornice della Baia delle Ninfe e il successivo riordino a Fertilia l'arrivo di fine tappa all'hotel Punta Negra ha concluso la gara il pranzo e le premiazioni di tutti gli equipaggi si sono effettuate alla presenza del sindaco Mario Bruno e dell'assessore allo sport Ninansini grande soddisfazione del team Alghero Corse che ha visto premiati gli sforzi per l'ottima riuscita dell'evento e che ha voluto ringraziare l'assessorato al turismo della regione l'amministrazione comunale di Alghero il comando della polizia municipale per la disponibilità e per la gestione della chiusura al traffico cittadino per le prove di precisione sul lungomare Barcellona ma anche le amministrazioni di Villanova-Monteleone e Itiri oltre alla Fondazione Meta e AC Sport e sempre lo scorso fine settimana si è conclusa la sedicesima edizione del Sardegna Open quindi siamo passati alla tennis in particolare tennis in carrozzina tra i protagonisti anche Alberto Corradi che nella propria categoria si è arreso solo in finale ma soprattutto Corradi è il Deus ex macchina della manifestazione che anche quest'anno ha fatto registrare un gran successo sentiamo un estratto di un'intervista che ha realizzato Pino Lignoso chiamano il Marziano è una settimana che non dormo febbre a 40 e poi lasciamo perdere gli altri piccoli problemi che ho avuto anche ieri non lo so come ho fatto arrivare in finale è stato un miracolo ma soprattutto per poco non vinco quindi era un miracolo doppio sarebbe stato beh comunque secondo è il top comunque anche secondo si è arrivato si è arrivato a fare a parte che la partita è bellissima perché hai fatto delle giocate straordinarie l'abbiamo anche registrate ma poi ci hai fatto anche divertire questo è spettacolo ed è divertimento è importante anche nello sport quindi noi ridevamo eravamo tutti da tua parte perché ci facevi anche ridere grazie grazie a voi grazie al pubblico che ha partecipato e mi ha supportato bravo e vediamo se l'anno prossimo ti invitiamo ancora grazie te lo faremo sapere pagherò doppio se mi invitate però l'anno prossimo è l'ultima cosa devi vincere senza altro l'ospitalità si attacca l'altra no farò la finale con un altro italiano così non ho problemi di ospitalità va bene salutiamo Sardinia Open va bye ciao ciao e non perdete nei prossimi giorni gli speciali con Pino Lignoso e le sue scori bandi a Sardinia Open invece per l'edizione odiana del nostro telegiornale è davvero tutto ora come sempre spazio le previsioni del tempo per domani grazie e arrivederci grazie